Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuova puntata di Grattevinci oggi abbiamo sempre il nostro favorito Grattevinci americano che ci fa sempre vincere dei bellissimi premi e poi abbiamo due Grattevinci che mi hanno portato dall'Italia molto belli e se vinco in euro poi ci penseremo allora passiamo subito con questo per l'occasione oggi abbiamo un venticinquino americano originale anzi iscrivetevi al canale se volete vedere grandissime storie dagli Stati Uniti passiamo subito ok amici allora passiamo subito al questo qua bisogna eguagliare il prezzo che troviamo qui devo dire che il soldo gratta molto meglio del cucchiaino quindi lo consiglio a tutti utilizzate sempre un soldo invece che un cucchiaino allora un bel 9, 9, 7 e vai a far culo un bel 7, 7 c'è, il 7 c'è 8 vaffanculo non vorrei mica dirmi che il mio fluido è già svanito 8, ci siamo, ci siamo 8 no, 7 c'è, vaffanculo merdosi ok adesso passiamo qui target price 35 centesimi allora nella mia grandissima esperienza di questo gratta di vinci quando è basso così che te ti dici ah dai impossibile non ce la farò mai di solito vinci però 35 centesimi è abbastanza basso bisogna trovare un prezzo che sia più basso di 35 centesimi infatti abbiamo un bel, un dollaro un dollaro 80 60 95 30 c, ha un dollaro e 35 un dollaro e 85 25 centesimi ve l'ho detto, questo qua si vince sempre quanto è? facciamo un 500 mila dollari aspetta, piano, piano un dollaretto 5 5 5 dollari 5 dollari vabbè me lo sono ripagato sarà l'unico 5 dollari della giornata? vediamo un po' capuzzo non poteva essere 150 dollari non poteva essere 500 mila dollari porca vai che fai proprio sudare questi 500 mila dollari allora 100 aia niente 97 vaffanculo pinco passiamo subito al plinco dobbiamo trovare un win niente 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 win vaffanculo win niente allora qui dobbiamo ugualiare il prezzo allora 25 mila il prezzo di questo soggiorno alle Maldive ehm offerto dalla ditta aah c'è un 20 c'è un 20 25 ci siamo 4 4 ah vaffanculo niente 23 mila 23 mila la vacanza da sogno per tutta la famiglia 20 22 vaffanculo qui abbiamo vinto come sempre qualcosa ma solo 5 dollari va bene questi costano 5 dollari allora passiamo subito a questo qua che mi hanno portato dall'italia si chiama il milionario mi sembra un po' sempliciotto ma ehm sgrattiamo i miei numeri allora 7 io sgratto prima tutti i numeri 22 41 33 no facciamo come youtube anch'io che li mette dentro una cosina io sgratto e sporco tutta la cucina olè ah 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 giusto allora vediamo 7 allora c'è 13 e non ce l'abbiamo poi che ce l'abbiamo 11 niente vaffanculo 500 euro niente 15 niente qui sotto si sgratta no ci sono ci sono solo tre numeri sopra ok vediamo sotto 32 vaffanculo eh ma infatti me l'hanno detto che i gratifinci italiani non vinci mai infatti vaffanculo questo costerebbe 5 euro e infatti non ho vinto neanche qua e 23 l'ultimo che valeva la bellezza di uno non abbiamo vinto quindi questo è quanto come si voleva dimostrare il milionario è milionario solo per chi inventa il gioco del gratifinci ma ne abbiamo un altro speriamo nella fortuna allora speriamo nella madonna dell'incoronata allora sì 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 31 12 niente merda poi facciamo questo questo 10 stramerda 15 ho vinto anche ho vinto anche in quello italiano vediamo quanto un mille no mille euro amici ascoltatori guarda 15 15 perfetto andiamo sotto 17 di nuovo quanto quanto euro ho vinto un altro mille 2000 euro andiamo avanti il bello il bello della diretta 31 500 vediamo questo questo no anche questo ma fa culo qua abbiamo sbancato 500 di nuovo allora amici ascoltatori 1000 2000 500 500 3000 euro ok ok amici 3500 e 5 dollari 3000 euro e 5 dollari quindi se vi è piaciuto il video commentate sotto cosa mi compro mi compro cosa io vorrei comprare a me non lo so una tavola da surf non so un fuori bordo iscrivetevi anche al canale mi raccomando per un altro prossima settimana proviamo altri gratis allora per il momento è tutto ciao a tutti ciao 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 ciao